Per il giveaway poi a fine serata ma come c'è scritto dal titolo non ci saranno giveaway fino al 13 novembre Come c'è scritto dal titolo poi non voglio che vengono qua fanno Capito? C'è scritto ok? Non so se mi inseriscono a runstring o corrupting sinceramente Proto belt l'utente in sé così pilla Proto primo item vediamo dopo che fare dopo la prota perfetto La pozione porco via 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 E' di 300mph Ragazzi ho preso la pozione perché questa qua che rompo il culo anche senza pozione I'm you tall guys gl Just...pinks Sì sì Poggers Uff we go Oh la coglione Cazzo fai Eww Eww Poggers Lei c'è night eh quindi be quiet Oh Che faceva da qui di Galio? Ah, è andato. Allora, io voglio farlo, tu personale. Oh, meno, meno, meno! Mi avevo sponentato io, oddio, ma perché quando ho fatto flashè? Ragazzi, come fai loro a prendere controllo? Nel Federer, nel Federer! Suona come Thunder! Dopo la Q che si maxa, raga? Lei? Ok, grazie, Romeo. Un allieo ha stato traslato. Si ma, che salto viovo. Quindi, io ero dall'altro lado. Oddio, mi ha cliccato! Quindi Roma è un altro lato Vabbè lo voglio avere su PGG Non mai fido di voi Mi state di una mare di cazzate Gioco a capire Gioco a bozzate perché guardate ho guardato qua e non c'è jarva Ora devo far pressure perché il mio Dima sta facendo l'inferno Oh arriva Zyra Arriva arrivo bro Oh Non do asma del drago, no. Non do asma del drago, no. Non do asma del drago, no. Non mi prendo atto di nessuna offesa. Non do asma del drago, no. Non do asma del drago, no. Non do asma del drago. 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 Volevo pushare fast per andare a prendere... ...a ultare botte e mettermi in posizione per non farmi guadere in fogo. Mannaggia buttano più su due Max Ranger l'odore Max Ranger Stavo qui proprio Max Ranger Max Ranger Perché arriva qua Max Ranger Un culo della madonna Il mio culo Il mio culo Osere dire Ah questo è il mio nuovo però Forse ce l'ho tanti gold Ollo Che cosa do Max da dopo Non vado a vedere io No non mi fido Sei rumi che mi ha scritto Mi spiace Ho killer water Guardi non mi fido W Perfetto Mi stai trollando Io Mi hanno rotto il cazzo Hanno un alt pillo Potremmo andare di Banshee O di Adaptivem Ok 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 Perchè il loyalty potuto dopo che c'è l'inferno? Voglio fare solo da un negerban qua. Ok. E' un l'attropplener. Nice, uno per uno, mi piace, mi piace che è un bravo, uno per uno, non c'è stato il resto dello street, mi sembra coerente, guarda lì, perché Pyke è morto non lo so Scarpe facciamo Mercury contro quel team e credo che builderò Zonia o vado tipo di un item come Banshee, 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 mi piace C'era modo per settare l'acqua di Galio vero? Che prenda meno cooldown, com'era? Ma che cazzo? Mettiamo quel top 6 visto che c'è l'herald No No Grazie a tutti 6 bot stiamo prendendo le herald f3 proprio Gervan un po' fa così, un po' lanca bot e poi passa la mida e prende le herald, non si gioca così Non mori però te mola Cioè ma perché? Che cazzo i problemi hai? E lui sta vintando un'altra umana al fight Oh merda Your team has destroyed a turret Oh merda Oh merda Check Io non so chi è che sta intando di più sinceramente, dico la verità, io sto giocando super bene No joke sto giocando veramente super bene Ma chi perdeva? Mi devo dato una kill perché c'è Ignite, ho preso due territori, non è che sia morto uno buono a casa Sto un livello più di lei Sono una pressure infinita la mappa Merda Merda Buono? Ho preso la kill cosa? Cos'è che ti dico? Ecco che ti dico Clean, tranquillo, pulito e va bene così Nice Bella Primaker Il loi comunque non... Allora sicuramente ti invicero la lane ma come fa a perdere così hard? Porco dio adesso ho capito Gioca senza pressure Gioca senza pressure Diana è appena morta Stupido Ma funziona simile no? Ma funziona simile no? Che zio ... ... ... ... ... Mettere pressure mentale. E mo' va topside, c'è però. Sentirei quello che sia meglio fare pressure topside, actually. Qui c'è l'herald, andiamo verso l'herald. C'è l'herald. C'è l'herald. C'è l'herald. C'è l'herald. C'è l'herald. Ecco. è diventato ho fatto un ultimo merda l'era dove entrano preso l'ora oh merda 1250 e 200 devo prendere pure una pink Diana qua ha fatto il 12 no il loyal tp ho fatto un ultimo merda qua ma l'agia però non ho preso l'oro che ne sta giocando malissimo ah non c'ho la ulti non c'ho la air non c'ho la sonora di ingaggiare è una ward oh stanno qua stanno qua sono venuti ad aiuto a Diana ok push aloy push possiamo farlo secondo me no 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 qui 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 no io give up mi sono rotto il cazzo non ce la faccio non ce la posso fare non ce la posso fare io non posso credere che c'è gente di uno che porco di handicappata non ce posso credere no è proprio spastica sta gente porco è spastica sta gente non filtare stai sereno non ce la posso fare Ma loro non stavano regalando Porca tocca che avrei regalato io Ho visto i loghi e stavano regalando Porca matosca Ho visto i loghi e stavano regalando E' rimasto là per la wave Che cazzo ha fatto il loi Porca matosa Perché qui c'era Giorgio Se fossimo saltati da qua Non avrebbero visto che Non avrebbero avuto vicenda il nascio Capito E qualsiasi c'era Giorgio Avrebbero pensato Cazzo c'è Giorgio Non stanno facendo il nascio E invece abbiamo già provato là E il nascio lo stavano facendo Capito Era free cazzo Aia Boh gg My bad Non mi aspetta Non mi aspetavo ci stavano C'è il genere Poi che abbandono Lo cane Bravo Luce Ma è bad Quando mi aspetavo Potessero venire su di me Come di ritardare Non mi aspetavo Alla che ho il knock up di Giorgio Porca bro Io sto veramente Non lì su di me Cioè Devo avere veramente sbagliato Alla mostra che fa così Cioè Ho il mio team che stava qui Cioè Poi Magari ve lo faccio vedere Da replay Che il loyal ocean Se fossero venuti Qua Pai che ha fatto Due volte Avrebbero killato tutti Però Ci sta nel senso Non dovevo farmi peccare io però Ma hanno massato loro Mi pecchassero qua Quando il mio team sta qua Ecco Questo era Il succo del discorso Comunque devo torno a farmare Perché Diana mi sta ricordando Di livelli e di farm Perché non sto farmando Mi serve la zonia Assolutamente Un ally Has been slain Executioner Vedete? Executioner E' I'm tired of much Io non so cosa è questo, ma credo sia bello però! Diana non c'è il TP però sta pushando come una dissenata, io c'ho il TP ma secondo me è troppo scarso, non riesco. ... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oh, oh. Better mid get shidon. Che fight. Che giocatore. È mid, è mid il mio ruolo È mid Che giocatore Di solito ci puoi comprare delle cose sullo shop Ci puoi comprare Ah, grazie di circe, vonis, neanche avevo letto 50 bits, metta forse 50 bits Sei diventato il primo della settimana 210 Carina come pick Molto da teamfight, tranquillo, anche divertente Io non credo come abbia fatto Eloy Eloy non ha fatto un cazzo stavartista, 292 Cioè, vi rendete conto, quello è il problema dei top laner 292